C'è posta per Triforce Salve tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Noi siamo la Triforce Sempre al completo e sempre su Metidoo Ciao ragazzi E oggi andremo a fare il video delle poste Quindi accingiamoci Penso avete già visto dove siamo Vai accinghiamoci Apri casella della posta Ho ben 9 poste Allora ragazzi partiamo da Sì ragazzi devo dire che alcune le ho tolte Perché erano un pochettino spam Però è rimasto sempre dallo stesso Emittente si dice penso La posta quindi verrà comunque ringraziato Ma partiamo subito con Mugex Che se non ricordo male sta nella nostra gilda Sfida Bro hai un piccolo vantaggio Spaccalo tutto Manda il rama di ferro rosso con 8 abilità E2 ben KK Ti ringrazio Vai distruggi la distruggi Quindi adesso andiamo a distruggi Letture da parte di Vang Sempre lui Pestone Pestone Grazie mille ragazzi Grazie Poi abbiamo Letture sempre lui Altre letture forse utile Colpo potente Colpo potente Ho citato Grazie a tutti Cerchiamo Cerchiamo Di evitare Non spammate Troppo perché Poi siamo Scostretti Avete visto Tagliato E poi Puisone Parczi da parte di un corno un corvino se passa il treno nel frattempo che upy va più 9 a 3 ma ne ha detto più 9 ok accetto di ringrazio poi ultra shop da parte di signori 21 nero più 5 shop fischia fischia questo lo devo fare poi dal dai fabbolo piacere c'è uno sbaglio e siamo arrivati e sia 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 massimo 7 la settima luna la vista bella full raga ringrazio era per lo spazio di ringrazio per la luna più 9 che andremo subito a usare da più 9 che andremo a fare più 10 ovviamente e tu eri tecchi e nove bella raga buona fortuna se vi avanzo un ferro più 9 magari grazie mille però non andiamo a dobbare c'è un ferro più 9 in realtà vediamo e l'olio che questa posta sarà pieno di up ragazzi è pure per me ma ragazzi andiamo subito a dobbare dove andiamo a dobbare ragazzi qua dietro dal lupatore al lupatore dei non mi ricordo più raggiunto io lo farei proprio dal fabbro così a freddo ragazzi comunque vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto abbiamo raggiunto appena da poco i 3.000 iscritti quindi continuate di iscrivervi al supportaggio e lasciare tanti like a seguirci su instagram server nuovo discord e tutto il resto appresso twix non è meno importante dove gulmo highlander e forse anche paschi faranno del live ciao ragazzi dall'armaiolo fantasy fammi sta fantasia e partiamo subito dall'arco di corno che sicuramente però più 9 è grande ma sempre a questo è quello del treno quindi aspettiamo ciao più 3 più 4 più 5 vedi lander come si impegna guardano più 6 attenzione attenzione se sia proprio lui né non ci sta da parte non è una buona tecnica proprio lui ma che è più 3 a quale si scagge questo è perché giocare la ruota capito no 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 attenzione treno attenzione a morire maledetta la triga e maledetta inutilizzato comunque non si è abbiamo fatto il corno al volo con il treno treno più 5 stavo dicendo comunque secondo me ti sta facendo spendere più soldi più 6 attenzione per romperli quando costrano di più oppure allora o è questo oppure perché ho shoppato l'altra volta e quindi mi sta ringraziando 4 non schifo più anche se sappiamo che comunque la nostra ormai più 6 6 o ma che sembra su domenica più in attesa del prossimo treno 8 più se niente niente 7 attenzione 2 più 7 qui dobbiamo attendere ragazzi più ai grandi niente attenzione abbiamo una più 8 un buon corno però non è quelle col treno non c'è un uomo e più se nemmeno cinetto più nuove col treno di se nemmeno no c'è comunque più no 7 non è pure abbastanza più 8 attenzioni un uomo e poi con una luna come la luna il corno giro qui te lo dico è che siamo qua l'ho detto colmo come è superato ormai raga ormai l'ander c'è il 95 signori adesso il corno aspettiamo il treno io l'aspetterebbe intanto mi faccio il giro che ho fatto prima no ma non funziona la stessa devo aspettare vabbè comunque questo andrà con il treno alla macumba per ogni tali aspettare il treno ci vediamo fra poco un gioco genuto allora vado ragazzi questa volta macumba diversa giro intorno al fabbro anzi faccio un 8 un 8 infinito lupe infinito attenzione buon 9 lupe infinito lupe infinito ma che il culmo rotto è questo 2-4 mamma mia stai peggio di culmo fuggi fuggi eccoci qua ragazzi come potete vedere making si riconferma di nuovo perché ragazzi dà vantaggio a chi shoppa non solo con gli item che comprono ma con youtube come potete vedere ho shoppato è stato poco fa quindi making è questo e questo è making ragazzi io passo la linea ringrazio a tutti per avermi da di questi items penso che saranno item che andranno in un giveaway e mi raccomando ragazzi seguiteci sul nostro canale Twitch per non perdervi i giveaway prossimi passo la linea al buon Paschi ciao perché? perché a Paschi? perfetto ragazzi eccoci qui su Paschi andiamo ad aprire le poste che sono ben 20 ragazzi porchi culmi porchi culmi un sacco e tra l'altro alcune ho dovuto anche eliminare perché erano doppiate o quant'altro poi dopo andiamo a ringraziare comunque allora sfida andiamo un po' un ferro più 9 da parte di Muge spaccalo tutto va bene anche te a disposizione quindi una bella sfida tra me e i Lander al momento non sappiamo come andremo a vedere poi in un po' catch off allora da parte di Purgo un bel libro del corpo forte 69 69 eh porcellino le piace 69 young grazie mille Purgo andiamo avanti ragazzi letture da parte di spero sia utile grazie mille per il colpo potente utilissimo grazie tantissimo poi da parte di Outbreak lo stesso discorso dai Lander forse abbiamo lasciato anche la stessa pietra senza nemmeno fare la posa ci ha mandato tantissime pietre più 4 e ne abbiamo fatte vedere ovviamente solo una perché se no si riempiva la posa ne ha mandate se non sbaglio 5 perché sono 5 pietre erano 1,2,3,4 e 5 grazie mille 15 grazie comunque delle pietre che ci ha inviato poi skillag è una parola Outbreak grazie mille sempre del colpo potente mi ha invitato forse anche altri libri sempre lui però ho dovuto eliminare diciamo questo format è nato per dare la possibilità di un po' a tutti di o farci qualche regalo così oppure per non so fare qualsiasi domanda o altro quindi limitatevi a mandare una posa non per qualcosa però vabbè letture sempre da parte di Huang un altro corpo grazie ancora treno un altro up più 9 da parte di Cyper 21 grazie mille del vestito più 7 quindi ragazzi sembra che vogliono di nuovo fare quel video che abbiamo fatto i ragazzini già c'è un altro 7 sempre da parte di Cyper 21 un bel colpo potente grazie ancora Cyper poi up un altro vestito più 7 ragazzi da upare sempre da Cyper poi bo7 questo va sicuro conservalo per il passaggio a G porco bulmo ha scritto pestone 666 va bene bo7 penetra 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 the lord drop penetra 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 ma lei leggerebbe questi libri dopo allora penetrazione posso leggerlo corpo e colpo potente già l'ho letto invece penetrazione posso leggerlo dopo lo vado a leggere the lord drop grazie mille e avanti un altro libro ragazzi da parte di lord byron 99 the lord drop sono io mi sono dimenticato di spedirti questo quindi lo faccio con lui buona lettura va bene grazie mille lord byron poi pum cascati e il ciapo 94 un altro corpo forte grazie mille il ciapo tutte dal fabbro in villo attenzione da parte di dj maxim non ho soldi ma ho droppato un botto di lune va bene grazie mille dj maxim l'andremo ad uppare sicuramente dal fabbro e come vede anche lui mi ha mandato un bel po' di lune da uppare tutte dal fabbro quindi sono le ultime poste tutte lune ragazzi si si quindi adesso non so se ci vanno però poi mi ha detto mi raccomando uppale sul canale youtube ho perso il conto si lo so fanno schifo ma quelle buone le ho già fatte fallire tutte ok allora facciamo così dj maxim anche se hai spammato e come già detto ragazzi in precedenza non lo fate perché sennò siamo costretti se va una luna più 9 te la rendo molto volentieri esatto diciamo che queste le hai tenute perché comunque si tratta di una luna un item un po' più importante quindi poteva poi sembrare che fossero sparite nel nulla quindi abbiamo fatto rimanere apposta perché quando si tratta ragazzi di spam di oggettini lo eliminiamo perché potrebbe essere un messaggio inutile invece questo comunque è un up e li manteniamo però comunque ragazzi non spammate anche voi la stessa cosa sì perché diciamo lo scopo eh sì quello di upare sì ci sta perché è bello comunque upare insieme a voi le cose che ci mandate voi però mandateci una o due cose massimo poi sennò poi diventa perché alla fine sono solo 20 spazi quindi non possiamo andare un sì infatti pullo troppo sì ok ragazzi allora come detto dal nostro caro amico che ci ha mandato tutte queste lune dobbiamo andare a fare dal fabbro micchia dal fabbro proprio allora andiamo a leggere un altro colpo potente già l'ho letto corpo forte già l'ho letto penetrazione allenamento fallito ok c'era un pestone normale da conservare al gi però quindi non posso leggerlo quindi lo lasciamo così ok allora andiamo con le prime lune raga questa è già più due vada 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 poffete ok iniziamo con quest'altra l'ha detto lui dal fabbro e io sarei andato anche da dallo specialista brutale però allora più tre più quattro ragazzi vediamo più quattro poi andiamo avanti più cinque andiamo con quest'altra dieci abilità fischia vediamo già la tecnica diversa di paschi nel luppare si cerco di farle tutte più cinque non è male secondo me come strategia ci sta vediamo che paschi non scioppa quindi vediamo se la mia teoria è giusta attenzione attenzione più cinque attenzione più di uno più di due più di due ma è più di tre più di tre no porco gulmo più di quattro più di pai se stai guardando questo video magari vuoi fare una collaborazione e darci un milione di iscritti per noi ci va bene ma anche cinquecento mila cinquecento vedi tu vedi tu ok andiamo avanti più zero cinque abilità ne ho fatti già tre più cinque non so se mi spiego dal fabbro mi chiamo paschi ho venti nove mila anni e faccio le cose più nove non è vero non le faccio ora vediamo più cinque è cacca è scass oh no raga tutta più cinque moji secondo me può essere che oggi ho fatto l'aggiornamento e non ho fuffato qualcosa sono bugato ma vedi ti ricordi prima quante volte fallivano i up queste hanno aumentato lui allora il momento è un po' senza il momento proposto hanno aumentato il range degli up su nabby perché voglio è assurdo voglio è assurdo che devono avere tutte queste cose prima non esisteva proprio lascia perdere forse ecco qua scassato tutto è buttato dal culo allora andiamo con questa cinque abilità il ferro paschi il ferro lo conservo la fine faccio tutto di farlo non ho capito ci sta allora più ci ha trovato un po' di macumba leggermente più di 10 abilità questo è qua la mia come vedi bisogna passare d'acqua fai così fai così col mouse eh vedi più 6 ma è pure questa questa tecnica ma la voglia si ma è meglio il mio otto infinito ma è così annaggia colmo quel porcellino d'india andiamo avanti ma come vanno fatte solo una volta comunque beh questo si annaggia con quel porcellino d'india ragazzi stanno sfondando stavamo scherzando per il fatto dell'aggiornamento infatti è una stronzata non ti smettisci vai oh più 6 e invece devo andare più veloce devo andare più veloce ma vaffanculo che brutto rumore che fa più 6 più 7 più 8 oh oh ma vaffanculo 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 ci avevo creduto ragazzi allora il ferro me lo adappare però dal dal fabbricante di metafora eh sì sì perché questo aveva proprio richiesto lui non l'aveva richiesto altrimenti se non l'aveva richiesto sicuramente sarebbero andate almeno 7 più 9 mi dispiace amico mio però armaiolo ragazzi eccolo qua scusami lupacchiotto vabbè a sto punto uccidiamo tutti i tuoi familiari così non soffri allora andiamo con il ferro più 1 più 2 ma gulmo è falluto più 3 ok più 3 ragazzi dai però lo sponsorizziamo ragazzi più 5 vedete spendere da lui finché non faremo il nostro ma vaffanculo stiamo scherzando ragazzi ciao ok ragazzi per la mia posta è tutto io adesso passo quindi lo schermaiolo a gulmo quel porco ciao allora ragazzi eccoci qua su gulmo il ninja con una connessione nuova spero ci sentano i ragazzi spero ci sentano siamo qui per leggere le mie poste andiamo subito a vedere quando vi dico subito che non ho molte poste perché molte molte poste erano spam 10 per delle cose quindi ho dovuto purtroppo forza di cose anche io toglierle bellissimo da parte di acidi getto come si consuetudine eccomi il mio forziere grazie di tutto ma grazie a te grazie mille andiamo anche ad aprirlo grazie grazie sicuramente perché già vedo un altro ciao bellissimo che implica una chiave dorata mi servirà da parte di acidi getto invia ovviamente anche la chiave dorata grazie tante acidi getto ah così grazie mille cucciolo cucciolo di di il forziere dopo sfida da parte di moonjack se ti c'è spaccalo tutto vai la sfida di eiland che a te era più duro ricordiamo ma a me passi più zero fino ad ora c'è sta solo tu un gioco perché i passi abbiamo perso eh lo so devo migliorare il tuo più 8 quindi non ci fa più 1 esatto a me a quanto sei scassato a più 4 più 3 più 4 a di avanti guardati allo specchio guardati le spalle la parte di double c con tanto affetto una sfera di trasformazione cinghiale cinghiale e mi sta proprio a pennella la metto porco culmo ok prossima posta 4 ragazzi questo è quel ragazzo outbrick che ha spammato tante tante pietre io ho conservato la numero 4 ed è un antinjia più 4 grazie mille per tutte quante le pietre che ci hai inviato grazie tipo ligan sciamana difesa un po' di tutto ma di valore però calcolate che ne andate almeno 15 5 a 2 5 a 2 quindi grazie da parte di sono iacca non è tanto ma spero vi possa servire un saluto dal regno giallo invio un bel papirozzo fischia grazie mille perché io a momento sono venuti questi amici qua oh mi ricomo sciopo non mi ricordo oggetto da parte di Debeu grandi ragazzi siete i migliori grazie mille grazie Debeu per il debole soldato scimmia per lo young e per il ringraziamento grazie mille il real life vale molto da parte di hackerato e dice accattata un saluto dal regno giallo oggi posta gialla grandi grazie ragazzi che tra l'altro mi serve grazie mille mi serve mi serve mi serve giustamente le poste sono di colore giallo finito il video ciao un cornino anche per me highlander tra ninja ci si intende si spera buon loop grazie mille andiamo a doppare oltre che il ferro regalo regalo da parte di cypher 21 che mi ha inviato oltre questa magia 2000 ragazzi più 5 anche altre cose da oppare simili però ho ottenuto solamente questa voglio un bel video da parte di fervento mi ha inviato ben 10 cose più 7 veramente porca p***a ne ho ottenuto solamente una erano tutte corazza ombra notturna l'azzara di spirito vestito nero ma lo sai che noi le perle non le vogliamo consumare essendo più 7 la perla si può usare tranquillamente secondo me qua mi sa che ci uscirà di nuovo quindi un bel tiro a cazzo diciamo vabbè l'ultima post che tra l'altro non ho ancora letto infatti è qua mi sono stata inviata da poco da parte di justruxas una cintura di anime più zero questa è utile me la vado anche a doppare a vola vai ma che serve la roba che serve popatemi sta cosa scritta vi adoro allora andiamo ragazzi vestito da cinque cinghiale guarda c'è che mi rallenta parecchio vediamo che succede forziere dorato plus ovviamente tiforce plus ecca adè uff ma quali giganti porco contro porco chi vincerà te cicarile te cicarile 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 caccio oh ah gulmo il cinghiale vince cicarile oh eccolo là eccolo là no no si è incattivito il ragazzo l'azione parte in quarta lo simbile il cicarile gulmo cerca di scappare mure mure gulmo ragazzi abbiamo da oppare questo arco di corno e questo ferro mi distorcio cosi ferro rossi più 4 va più 5 ok già la seconda posizione per gulmo guadagnata e si spacca più 6 e si ferma la seconda posizione lui l'avrei voluto far arrivare solamente più 6 non oltre quindi adesso è l'ander e il re imbattuto degli up mi sa che l'ander devi fare la tua velenosa fra comunque mi sa che il tuo momento giusto se vuoi ti lascio lo centro per il momento me lo riconquisterò non ti preoccupare so anche come so anche e si spacca tutto il tag i lander vince su tutto ragazzi abbiamo questa cintura delle anime siamo dal buon fabbro e la occupiamo da lui perché so che è buona so che vale ma so che fa l'era pure qualche scaglia di energia c'è no noi proviamo a fare un po' di up ma dal fabbro eh si mamma mia guarda quello proviamola che spacca le cose potenti tipo per 90 non so mai arrivate più di più 3 mai mai a me mai vabbè ragazzi io direi grazie a tutti quanti per le poste che avete inviato siamo mesi a Paschi sia i lander possiamo dire che per questo video post è tutto vi raccomandiamo di non spammare troppo le poste altrimenti non le facciamo vedere ma non perché vi odiamo non per cattivare ragazzi dobbiamo lasciare spazio anche agli altri per inviare le poste altrimenti ci si riempie la gente viene chiusa e non le manda più noi vi possiamo salutare per questo video vi ringraziamo ancora per i 3k raggiunti in questa settimana e ci vediamo ciao 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 ragazzi cucci cucci che è se vai giù che è se è made in quando sciopi oi che è se è made in ciao